Ciao a tutti, sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di Instagram Reel per hotel. Questa puntata è dedicata a tutti coloro i quali vogliono approfondire i Reel all'interno di Instagram ma non hanno ancora capito benissimo come funzionano e come possono essere utilizzati per trarre giovamento alla propria struttura ricettiva. Io sono tra questi, quindi Edoardo ho bisogno del tuo aiuto per capirci un po'. Quindi metto dalla parte dell'ignorante che non conosce, che non sa bene che cosa sono questi Reel. Teniamo sempre conto che l'obiettivo della puntata è quello di parlare di questo argomento concentrandoci come sempre nell'ambito dell'ospitalità e di come questo tool possa essere utile agli hotel. Certo, cercheremo di stimolarne l'uso. Sì, sia il caso. Sì, sia il caso, certo, certamente, con tutti i vantaggi e svantaggi del caso. Iniziamo dalla definizione subito. Che cosa sono i Reel? I Reel sono dei contenuti video che possono durare dai 15 ai 30 secondi e che si vanno a posizionare all'interno di Instagram in tre sezioni. Nell'apposita sezione dedicata ai Reel, appunto. Nel feed di Instagram, che è ciò che scrollano gli utenti, quindi nell'home page anche lì si vanno a posizionare i Reel. Oppure nelle storie. Quindi un Reel, il contenuto video, una volta che viene condiviso, può essere messo anche all'interno delle storie. Perché questi Reel sono così importanti? E perché anche all'interno di Instagram hanno una posizione così centrale? Che cosa voglio dire con una posizione così centrale? Se noi apriamo l'applicazione di Instagram, vediamo che ci sono fondamentalmente cinque icone. L'icona dell'home page, quella della ricerca e al centro, appunto, la sezione dedicata ai Reel, in cui è possibile esplorare questa tipologia di contenuti. Qui è proprio messo lì in mezzo il pulsante, il bottone. Esattamente. Fondamentalmente anche nella guida ufficiale di Instagram, se noi andiamo a leggere quello che è dedicato ai Reel, c'è scritto che rappresentano una nuova modalità di creare brevi video divertenti, nati con lo scopo di raggiungere un nuovo pubblico. E effettivamente questa cosa l'ho ritrovata anch'io. Perché molto spesso i Reel ti mostrano contenuti video di persone che non conosci. Ed è stata confermata anche dal CEO di Instagram, Adam Mosseri, che dice che servono a persone per trovare nuove persone. Quindi per espandere il proprio network. Esatto. E qui penso che sia un po' il punto della situazione. Bravissimo. Per espandere, quindi conoscere nuove persone, significa accalappiare nuovi follower, in pratica. Bravissimo. Vuol dire che i Reel che ci vengono proposti maggiormente sono di persone che non conosciamo, che non seguiamo. Quindi non stanno nella nostra cerchia di follower, di contatti, ma stanno al di fuori appunto per stimolare una curiosità. E in un'intervista, sempre che chi ha rilasciato il CEO di Instagram, dice che sono uno strumento creativo, volto anche a portare più coinvolgimento. Quindi vuole portare gli utenti di Instagram quasi a conoscersi tra di loro. Beh, ovviamente l'obiettivo è quello di avere un network, perché alla fine un network di persone è quello che crea un social network. E tanto più sarà vibrante, tanto meno sarà stantio, tanto più sarà gratuito dagli utenti. Quindi questa mossa è comprensibile, no? Bravissimo. Se non male io le storie le pubblico e le vedono solamente i miei follower, le post le pubblico e le vedono solamente i miei follower, come faccio ad allargare i miei orizzonti? Come faccio ad avere, a procurarmi nuovi follower? E quindi questi Reel, da quanto ci racconti, sembrano venire in aiuto proprio su questo fronte. Esattamente, anche perché i Reel sono stati pensati su un qualcosa che è già presente all'interno della piattaforma di TikTok. Quindi anche poi il CEO di Instagram l'ha confermato che TikTok offre una gamma di strumenti molto più potenti di quello che è realmente Instagram. Ma vogliono portare a mettere anche in primo piano le persone che sono creative e a tutti essere un po' più creativi. Però parli di strumenti più potenti in termini di editing, quindi di modifica del video. Quindi puoi farci più cose. Esattamente, fondamentalmente è questo. Ma quello che vogliono stimolare è la creatività. Anche perché tanto poi il social si rischia sempre di andare verso un appiattimento. All'inizio erano i post su Facebook, poi sono state le foto, gli album di foto. Ma poi abbiamo visto come nel tempo anche questi strumenti siano andati verso un appiattimento. Le persone non li utilizzano più. Pensa quando era nato Facebook. Era nato Facebook, tutti condividevano l'album della vacanza. Poi l'album è andato un po' in disuso, si è iniziato a mettere una foto della vacanza e poi Facebook ha perso un po' quella dimensione. E si è passati su Instagram. Quindi su Instagram si metteva una foto della vacanza, poi si metteva una storia, quindi più storie. E quindi anche i reel sono un'evoluzione di quello che è il processo creativo che avviene all'interno dei social network. Perché la gente si annoia, secondo te? Nel senso che diventa mainstream e quindi non è più figo, non è più interessante? Quale potrebbe essere il problema? Ma secondo me è una questione di attenzione. Quindi dopo che tutti i giorni stai in un social per almeno quattro ore nel tuo tempo libero prima di andare a dormire, mentre sei in bagno e vedi sempre gli stessi contenuti che sono le foto del vicino di casa, la storia del gatto, a un certo punto c'è un appiattimento, ti annoia e quindi c'è bisogno di creare qualcosa di nuovo. E ovviamente questo qualcosa di nuovo lo devono fare gli utenti, lo devono fare in maniera semplice, quindi deve essere bene o male alla portata di tutti. Anche tra poco vedremo come creare un reel, perché lo dovresti farlo per il tuo hotel. È semplice creare un reel, non ci vuole una laurea in editing. Poi se vuoi creare un prodotto meraviglioso e sei un influencer come Chiara Ferragni, allora lì avrai un'attenzione maggiore al particolare, però... È chiaro. Ma quindi questi reel sono presenti sulla piattaforma ormai da un po'. Sì, un anno, più di un anno. Più di un anno, però sono esplosi di recente. Adesso noi siamo ai primi giorni del 2022 e se ne parla di più forse, o magari solamente dipende da me che l'ho sentito più adesso rispetto a prima, non lo so, magari l'hanno centralizzato. Sì, i reel sono stati lanciati ad agosto 2020. Diciamo che in questo periodo dell'anno, per esempio, va molto di moda il recap 2021, il reel, con la musichetta di tutti i migliori momenti del 2021 e quindi tutti lo stanno condividendo. Quindi adesso abbiamo avuto veramente un picco dell'utilizzo del reel. Certo, per questo recap. È per quello che l'ho visto più spesso anch'io. Bravissimo. È chiaro, ok. Esatto. E appunto, scendendo un po' nel particolare, quindi abbiamo detto che un vantaggio è quello che si raggiunge una platea inesplorata, quindi non i nostri follower, ma persone che potrebbero essere interessate. Creare un reel è abbastanza semplice. È sufficiente aprire l'app di Instagram, cliccare sull'icona con il più in alto a destra e lì già c'è la possibilità di creare il reel. Il reel si può costruire in due modalità. Non voglio essere troppo guida, però voglio dare una buona idea. O con un video che noi registriamo in diretta, quindi sono in un posto che mi piace particolarmente, il nostro cliente, il nostro ospite, sta nella nostra spa e decide di fare un reel lui stesso, quindi può registrare un video in diretta, oppure può andare a pescare delle immagini dalla galleria e costruire il proprio reel. Quando noi andiamo a montare il reel, Instagram ci viene in aiuto proponendoci delle sezioni in cui possiamo, per esempio, scegliere l'audio e in cui si seleziona una canzone direttamente dalla galleria. Possiamo scegliere la durata, se 15 o 30 secondi. Possiamo decidere di velocizzare il nostro video se gli vogliamo dare un'accelerata. Un po' di brio. Esatto, un po' di brio. E appunto possiamo mettere anche degli effetti, quindi dei filtri, degli effetti particolari sul video per renderlo, degli effetti di movimento, per renderlo ancora più bello. Quindi anche la creazione è molto molto semplice. Beh, immagino anche perché, però dicevi che è meno potente rispetto a TikTok. Sì, beh, TikTok è una piattaforma veramente che l'ha fatta da padrone e la sta continuando a fare da padrone per quanto riguarda i contenuti video. Però Instagram ha capito che bisognava dare una direzione diversa alla piattaforma e il reel ha avuto una grandissima interazione sotto quel punto di vista. Quindi mossa riuscita per ora. Sì, sicuramente. Ma quindi dal punto di vista pratico, quale potrebbe essere un primo reel che potrebbe andare a creare un hotel dopo aver ascoltato questa puntata? Ok. Ne deve creare uno, ne deve creare dieci, ne deve creare cinquanta, con che cadenza, non so. Che cosa raccomandi, Edoardo? Allora... Questa domanda un po' brucia pelo. No, no, no. Perché poi, vede, dipende, no? Allora, sì. Allora, io quello che consiglio, se avessi un hotel, mi dici, ok, pensa delle idee creative per un reel. Allora, una potrebbe essere tre buone ragioni per visitare, ad esempio, Hotel Villasole. Quindi che cosa faccio? Prendo tre bei momenti, belle foto della mia struttura. quindi, che ne so, la piscina, la colazione e la vista della Junior Suite. Quello è un contenuto che va tanto. Mi raccomando, tre buoni motivi per visitare Hotel Villasole deve essere un testo che viene messo all'inizio del video in modo tale che se uno scrolla il feed vede, ok, tre buoni motivi per visitare... Ok, ma che cos'è? Mi fermo e lo guardo. Ok, che cos'è? Hotel Villasole. La piscina, uno, colazione, due, vista Junior Suite, tre. e in questo modo ho fatto conoscere la mia struttura a un pubblico che non mi conosce e questo può essere un'idea di reel. Quindi anche l'idea dell'elenco puntato funziona sempre di un qualcosa numerico. Tre buoni motivi. Certo, perché ti rendi conto di quanto dura, no? Esatto. L'ho visto uno, l'ho visto due, so che poi c'è il terzo o se erano cinque dovevo aspettare di più per vederne tutti cinque. Esattamente. Oppure ho un family hotel, quindi ho una struttura che lavora molto con le famiglie durante la stagione estiva, un altro reel potrebbe essere perché i tuoi figli adoreranno Hotel Villa Sole e quindi metto in evidenza l'animazione che viene formita dal mio staff, la piscina, il campo da beach volley. Quindi vado a targhettizzare tutte quelle famiglie che possono essere interessate dalla mia offerta. Certo. Oppure il più banale che appunto ne abbiamo parlato prima è il recap del 2021, quindi il recap dell'Hotel Villa Sole con tutte le foto simpatiche dello staff. un altro ancora potrebbe essere una foto del nostro hotel per ogni stagione, quindi anche come cambia la struttura in base alle stagioni. Magari ho un agriturismo, quindi vedo arrivare l'inverno, le prime nevi, l'autunno con i magici colori. Anche quello è molto molto bello da raccontare. Un sacco di belle idee, insomma, veramente. E poi questo lo puoi fare facilmente perché è un video, ma come accennavi tu, un video può essere anche composto dalle foto che hai fatto. Assolutamente. E quindi diventa un carosello fotografico. Bravissimo, quello è importante. Comunque è dinamico, non è che lo devi scrollare a mano, ma gira da solo, è tanta roba. Assolutamente, bisogna puntare molto su questa creatività. Alcune strutture mi hanno detto no, ma io guardo i reel non li vogliamo fare perché non siamo capaci, perché comunque la nostra struttura ha poco da raccontare. Abbiamo visto reel di strutture meravigliose con vista sul mare attico. Sì, va bene, quelli sono i reel, quelli meravigliosi degli influencer e dei fashion blogger, però anche la tua struttura può raccontare molto e sei tu che lo sai come raccontarla. Quindi i spunti sono veramente tanti, possiamo fare tante cose con i reel, con questo nuovo strumento. Per farci trovare però dobbiamo lavorare sugli hashtag. Sì, penso che le chiavi per far capire all'algoritmo di Instagram di che cosa stiamo parlando siano gli hashtag. Sì, bravissimo, quello è ottimo, sono le keyword appunto e quindi è importante mettere ovviamente la breve descrizione di quello che andiamo a proporre ma è importante mettere anche degli hashtag quindi nel mondo dell'ospitalità consiglio travel, tourism, hotel e quindi tutte cose attinenti al mondo di viaggiare. Beh, penso che abbiamo detto veramente tante cose per quanto riguarda il mondo dei reel quindi il suggerimento che attiro fuori da questa tua puntata Edoardo perché sei tu che ci hai raccontato bene è quello di provare a fare i vostri reel magari come carosello fotografico inizialmente oppure registrando dei video cercate di utilizzare i giusti hashtag le giuste keyword per poter apparire e ricordiamo sempre che l'obiettivo nostro deve essere quello di ottenere più follower ma che siano in target con la nostra nicchia di mercato è inutile avere migliaia di follower se poi questi sono completamente casuali quindi cerchiamo di lavorare sul nostro target utilizziamo questo strumento in più su instagram che vedrete non porterà via più di chissà quanto tempo ma è una cartuccia in più che abbiamo da spararci e devo dire che vi farà anche divertire io sto facendo il nostro primo reel del profilo di slope che potrete vedere a breve e devo dire che è divertente bene bene anche vediamo un po' sono curioso anch'io di vederlo ciao a tutti buon lavoro ciao buon lavoro ciao a tutti 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 ciao a tutti